ciao a tutti e bentornati a pillole di storia bentornati alla nuova puntata della nostra ucronia cosa sarebbe successo se l'impero romano d'occidente fosse sopravvissuto se l'impero romano d'occidente avesse superato ormai quasi superato il medioevo cosa sarebbe successo se fosse arrivato all'anno 1175 cioè quando riparte questa nostra puntata vi dico subito che arriveremo fino al 1200 quindi 25 anni 25 anni in cui succederanno molte cose che però saranno molto legate fra di loro quasi tutti i territori europei e medio orientali interagiranno fra di loro quindi è importante purtroppo che vi racconti la storia un passo alla volta saltando di qua di là dal mediterraneo per potervi però fare un quadro complessivo da dove partiamo beh partiamo come al solito dall'impero partiamo dall'italia nell'impero nel 1175 da due anni governa antonino figlio di antonino colui che ha riconquistato l'impero ai visigoti e come mi ha fatto notare qualcuno non è antonino secondo ma è antonino terzo perché mi ero dimenticato antonino pio nella timeline originale antonino terzo è un uomo con la testa sulle spalle sa che il suo principale obiettivo è quello di cercare di stabilizzare l'impero che è stato fortemente indebolito soprattutto dal punto di vista economico stabilizzarlo dal punto di vista economico dal punto di vista militare ma anche dal punto di vista religioso perché non dimentichiamo che in questo periodo nonostante tutti i tentativi del papa e dei vescovi di combatterlo sempre di più si sta sviluppando il movimento dei cartaghi o dei catari cioè questo movimento che richiede la povertà della chiesa che si sta sviluppando sempre di più in africa trovando sponda non solo nei nella povera gente nel popolino ma addirittura anche nei signori in coloro che dominano le città lungo la costa alcuni dicono addirittura che i cartaghi che i catari siano ascoltati persino dalla corte dei severi a cartagine ma questo rimane un pochettino sotto traccia l'obiettivo principale di antonino terzo però dal punto di vista economico tra 1175 e 1185 varia una serie di riforme economiche che cercano di riportare ricchezza in italia e in spagna le due province più colpite dalla guerra civile la cosa gli riesce molto meglio in italia anche perché l'autonomia che le città le respubbliche soprattutto del nord e del sud italia si sono prese e anche un motivo grazie al quale riescono rapidamente a riprendersi e a riconquistare ricchezza questa autonomia però vuole anche dire scontri perché delle tre vecchie repubbliche marinare una è oramai in seguito alla guerra civile in costante declino cioè quella contemporanea più potente la repubblica di ancona ma le altre due cioè venezia e taranto sono impegnate sempre di più ad arricchirsi sul commercio ma soprattutto a lottare l'una con l'altra per le risorse economiche questo scontro arriva quasi a un vero e proprio scontro militare quando nel 1180 una flotta veneziana diretta verso sud viene intercettata da una flotta tarantina che gli accusa di aver attaccato dei mercanti di taranto solo grazie alla mediazione imperiale si evita lo scontro ma da questo momento in poi le due repubbliche saranno molto spesso ai ferricorti e inizieranno a dividersi un pochettino il mediterraneo venezia guarderà molto verso oriente farà accordi con il saladino con i signori dell'egitto e mentre invece taranto diventerà lab principale attraverso cui le merci che giungono in nord africa attraverso le vie carovaniere tenute dal regno di lumiglia dai berberi arrivano sul continente questo vuol dire che entrambe le repubbliche fioriscono e si arricchiscono intorno a loro si arricchiscono ovviamente tutte le piccole città repubbliche che le circondano un po meno bene sembra andare in spagna la lusitania in realtà grazie alla spinta dei normanni che fanno crescere la provincia la arricchiscono attirano manovalanza la lusitania cresce e prospera in pochi anni i normanni di altavilla riescono imprimere un deciso cambio di rotta a questa provincia va abbastanza bene anche la betica quella che un tempo era la provincia spagnola romana invece con c'è molta molta difficoltà nel far riprendere le vecchie terre visigote dove non solo i visigoti continuano ad essere molto turbolenti e a opporsi alle idee imperiali ma ci sono anche grossi problemi dal punto di vista economico perché sono terre impoverite terre che non hanno una crescita come come le altre un terre su cui ci sarà ancora molto 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 da lavorare se vorranno rifiorire un'altra delle riforme che l'imperatore fa è quello di riportare nel loro corretto numero le legioni fedeli all'impero che si trovano nel norico legioni che erano state sconfitte si erano unite all'altro imperatore i visigoti erano state sconfitte ma vengono reintegrate i comandanti vengono sostituiti con uomini fedeli all'impero insomma nel 1185 seppur con tante difficoltà l'impero sembra avviato ad una ricrescita un po' a macchia di leopardo ma comunque ad una ricrescita nel 1185 viene indetto da papa alessandro terzo un concilio il concilio di palermo a cui vengono chiamati i vescovi per decidere cosa fare dell'eresia catara nonostante la difesa portata da alcuni vescovi africani che seppur non apertamente cercano di riportare questo tipo di eresia nell'albio della chiesa alla fine la condanna è unanime i catari vengono condannati come retici e si dà mandato ai governatori al capi delle città delle respubbliche di cacciarli e di perseguitarli ovunque essi si trovano addirittura il papa cerca di introdurre una propria milizia tra virgolette privata un gruppo di fedeli che possano ovviamente di monaci persone ovviamente formate per cercare di cacciare questa eresia ma l'intervento dell'imperatore che malvede la formazione di un governo sotto il suo governo riesce ad allontanare questo rischio insomma per ora di inquisizione nel mondo di orbis non se ne parla le cose però che sembravano portare verso uno scontro tra la cristianità di roma e i catari che peraltro non sono più soli perché si sta sviluppando tutto un movimento simil cataro con vaghi spinte nazionaliste vaghi spinte autocefale in varie altre zone spagna su tutti viene chiamato un movimento degli spiritualisti proprio perché contrappongono se stessi più spirituali al papa di roma invece un pochettino più materiale nonostante sembra che si stia per arrivare a uno scontro le cose sono destinata a cambiare ben presto perché altri interessi raggiungono roma prima di poterli raccontare però devo raccontare di altri due zone altre due zone dell'europa occidentale la prima è la longobardia abbiamo lasciato federico barbarossa impegnato in una guerra contro la boemia e contro la polonia o meglio sconfitto a cracovia in una guerra contro queste due in seguito alla sconfitta di cracovia federico barbarossa era riuscito a tornare in germania nonostante avesse richiamato un esercito nonostante fossero iniziati dei piccoli screzzi tra i due alleati appunto l'autonominato regno di polonia e il ducato anche se autonominato regno di boemia in realtà federico si rese conto che non aveva grosse possibilità di poter rivaltare la situazione anche perché gli sarebbe costato troppo instabilità interna per questo preferì firmare una pace nel 1176 venne firmata la pace di praga con cui federico barbarossa riconosceva i regni di boemia e di polonia come entità autonome non soggette in alcun modo all'impero i due regni erano sorti ed erano regni autonomi con una forte influenza longobarda sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista civile ma comunque regni autonomi molto più slavi rispetto a quanto fossero i longobardi che ormai sono apertamente tedeschi possiamo chiamare la longobardia germania come vedete dalla cartina senza alcun problema barbarossa però non si fermò lì otto anni più tardi nel 1184 infatti decise di invadere la pomerania cioè tutto il territorio a nord della polonia abitato da genti ancora in massima parte pagane che vennero in cinque anni conquistate e sottomesse spinte a convertirsi molto spesso con la forza delle armi piuttosto che con la convinzione prima di andare avanti con la storia della longobardia tra poco capirete il perché dobbiamo però spostarci ancora più a ovest perché dobbiamo andare a parlare del regno di normandia regno di normandia che sotto lo sappiamo tutti enrico secondo enrico secondo da quando è diventato re ha dovuto soffocare ribellioni ha prima sconfitto e poi è stato ricacciato dall'irlanda ma ha quasi completato praticamente la conquista del galles praticamente completata ma nel 1178 si impegna nell'ultimo grande nemico che ha in terra d'inghilterra voi lo sapete in seguito alla conquista di guglielmo il conquistatore una zona del nord dell'inghilterra il danelau si era trovata ad essere contemporaneamente parte del regno di norvegia ma anche vassalla del regno di normandia e come risolvere la situazione ben enrico secondo ne conosceva una sola impose la sua legge alla norvegia chiese che la norvegia restituisse il danelau al regno di inghilterra e quando il re magnus di norvegia rifiutò scese in guerra la guerra non ebbe praticamente nessuna sorpresa le truppe normande erano troppo numerose troppo forti ben presto misero sotto assedio york la capitale e la conquistarono magnus un anno dopo sbarcò con un suo esercito proveniente dalla norvegia ma benché fossero i famosi guerrieri vichinghi che tanto avevano fatto tremare il mondo vennero affrontati e facilmente sconfitti dalle forze di enrico secondo nella battaglia di stanford bridge enrico secondo è ricordato anche come un legislatore cercando di portare stabilità al suo regno creò un nuovo codice di legge un codice di leggi che riuniva sostanzialmente quello che era il diritto normando il diritto anglosassone con grossi spunti di diritto latino per cercare di creare un codice di leggi che andasse bene per tutti i sudditi sotto di lui è un codice molto ambizioso ci vorrà molto tempo perché venga attuato ma ovviamente è un passo in più nella direzione di un'integrazione nel 1189 enrico secondo si spegne a succedergli sarà riccardo cordileone insomma antonino antonino terzo riccardo cordileone federico barbarossa peraltro mai molto anziano qualcosa lega questi uomini federico barbarossa in realtà un legame con riccardo cordileone ce l'ha perché ha fatto sposare enrico il figlio primogenito con eleonora di tolosa che è la figlia di di enrico secondo quindi sorella di riccardo cordileone per cercare di rapacificare le due dinastie ma qualcosa di più lontano ben presto gli unirà e quel qualcosa ovviamente in medio oriente dove inizia la storia del medio oriente beh dove si era fermato avevamo lasciato nel 1175 un saladino che almeno formalmente giurava fedeltà alla alla casata di norandino ma in realtà nel 1176 questa fedeltà venne a decadere perché saladino dopo aver riunito le sue truppe marciò verso la siria entrò a damasco tra due ali di folla e divenne l'unico signore del nuovo regno a iubide che andava dalla siria da idessa fino all'egitto una volta divenuto re la prima cosa che fece fu di rinnovare l'alleanza con il regno di grecia con manuele duca d'altronde l'alleanza serviva ad entrambi serviva al saladino per avere una sponda contro i regni cristiani serviva a manuele ducas per quello che lui sperava essere la futura riconquista di quella parte di anatolia che ancora era in mano turca nel sultanato un tempo di rum ora chiamato sultanato di iconio in realtà le cose non andarono così non andarono così perché nel 1180 il manuele ducas morì lasciando il trono al figlio alessio ducas che era molto giovane formalmente fino al 1182 il tutore di alessio ducas fu la madre ma proprio nel 1182 la madre morì in circostanze poco chiare e al posto della della madre il nuovo tutore fu andronico ducas che del basileus era il lo zio fratello di manuele ducas andronico ducas in realtà molto probabilmente era stato il mandante dell'assassinio della ex basilissa e ben presto capì che se voleva il potere avrebbe dovuto far uccidere anche il nipote e così fu perché nel 1183 anche alessio ducas morì forse strangolato alcuni dicono di morte naturale chissà ma il risultato fu che sul trono tra mille mugugni salì proprio andronico ducas questa salita al trono di un uomo peraltro coraggioso preparato dal punto di vista militare venne però funestata da un attacco approfittando infatti del caos che stava iniziando a regnare a costantinopoli due popoli calarono da nord e gli ungheresi direi belaterzo e i bulgari infatti in due colonne attraversarono il danubio e marciarono verso costantinopoli andronico riunì le sue truppe pensava di avere un esercito sufficiente a fermare gli invasori ma quando affrontò gli ungheresi peraltro separatamente nei pressi di belgrado belaterzo riuscì facilmente a sconfiggerlo quasi completamente annientando il suo esercito e costringendolo a rientrare velocemente a costantinopoli nel 1185 rientrato a costantinopoli dove peraltro si diceva che sarebbero presto arrivati bulgari che avevano sconfinato al di là del danubio e stavano calando verso la traccia una volta arrivato a costantinopoli andronico subì le ire della folla che si sollevò assaltò il palazzo imperiale e lo uccise al posto salì al potere isacco della casa angelo isacco secondo angelo il quale riuscì a risollevare il popolo e ad affrontare i bulgari proprio alle porte di costantinopoli questa volta seppur con tante difficoltà seppur con tante perdite i bulgari vennero respinti ma isacco aveva ben chiaro che non avrebbe avuto nessuna possibilità con quell'esercito di affrontare anche gli ungheresi e così nel 1186 firmò una pace proprio con gli ungheresi e i bulgari e i bulgari vennero concessi alcuni territori a sud del danubio gli ungheresi ottennero la serbia sostanzialmente quella che è l'attuale serbia e montenegro scendendo quindi verso sud ad avvolgere la dalmazia romana le cose però per il medio oriente non erano che iniziate vi ricordate vi ho detto che a palermo si era appena tenuto un concilio quel concilio aveva sostanzialmente sancito una cristianità militante una cristianità che avrebbe dovuto attaccare e distruggere l'eresia ovunque essa fosse questo spirito aveva attirato moltissimi soldati moltissimi uomini che si erano trasferiti anche in terra santa e questo aveva imbalanzito il legato di gerusalemme il quale approfittando di un piccolo scontro di confine aveva deciso di riprendere l'offensiva contro saladino e di attaccare direttamente damasco nel 1187 quando le due forze si affrontarono nei pressi di attin però la vittoria andò completamente al saladino il quale dopo aver annientato le truppe crociate chiamiamole così le truppe del legato di gerusalemme marciò proprio su gerusalemme e dopo un breve assedio riuscì a conquistarla in realtà il saladino da lì si spinse anche a conquistare gli altri territori che circondavano gerusalemme uno su tutti il porto di ascalona una conquista che veniva mitigata dall'accordo che in quegli stessi giorni firmò con il suo alleato perché alessio alessio scusa isacco angelo aveva ovviamente rinnovato l'alleanza con il saladino e firmarono un accordo che permetteva a tutti i cristiani di raggiungere gerusalemme perché sperava almeno questo sperava al saladino che questo avrebbe mitigato le richieste della cristianità che non sarebbe intervenuta nel momento in cui i cristiani potevano continuare a raggiungere proprio gerusalemme purtroppo per lui le cose non andarono così la notizia della caduta di gerusalemme raggiunge il papa nel 1188 questo lo spinge a una dichiarazione molto semplice invita tutti i regnanti tutti i signori dell'impero tutti i regnanti cristiani d'europa alla crociata per liberare gerusalemme caduta in mano all'infedele forse in maniera ancora più forte rispetto a quanto era avvenuto nella prima crociata qui stiamo veramente parlando di un movimento religioso in toto di cui il papa diventa il primo vero ispiratore senza che ci sia in realtà un imperatore dietro a manovrare per altre motivazioni anzi in realtà l'imperatore antonino terzo di questa crociata non ha nessun interesse la maggior parte dei suoi signori praticamente quasi tutti i suoi signori non si dicono disponibili ognuna delle motivazioni difendere il proprio territorio da incursioni piuttosto che dover assicurare la sicurezza alcuni parlano di lotta ai catari agli infede agli eretici nelle loro province insomma l'imperatore si ritrova presto solo e nel 1191 solo il papa che lo snominaccia praticamente di scomunica e strepita in tutti i modi spinge antonino terzo ad allestire una flotta questa flotta però nel 1191 non parte perché nel sud italia vicino a taranto scoppia un'epidemia di peste cosa che spinge l'imperatore a sciogliere temporaneamente la flotta e a rimandare nonostante le rimostranze del papa l'invasione chi invece non rimanda l'invasione sono e per questo ce l'abbiamo affermati prima i due signori del nord riccardo cordileone re di normandia il quale lascia le sue terre in mano in gestione al fratello giovanni e insieme all'esercito marcia verso est insieme a lui il cognato come si dice il padre del marito della sorella non lo so comunque il parente diciamo così acquisito federico barbarossa il quale insieme ai suoi nobili dopo la vittoria in pomeragna che è stata venduta come una crociata del nord anche per motivi propagandistici si unisce alle forze di riccardo e con esse marcia verso sud quando l'esercito nel 1192 raggiunge costantinopoli in realtà dopo esser passato attraverso i territori ungheresi in realtà isacco angelo non è così contento del loro arrivo teme infatti che l'arrivo dei crociati possa voler dire dover interrompere l'alleanza con il saladino cerca di dissuaderli cerca di mostrare l'accordo che ha stipulato con il saladino per far arrivare i crociati ma le notizie che giungono che dicono che il saladino ha ormai praticamente occupato tutte le piazzaforti romani in fenicia e a gerusalemme spingono comunque i crociati forse anche minacciando un pochettino il basileus con le armi a farsi passare dall'altra parte del bosforo qualcuno dice che isacco li abbia fatti attraversare anche per toglierseli da costantinopoli dato che quei due eserciti stavano consumando tutte le sue riserve e creandone un poco scompiglio i due eserciti marciarono nel 1192 verso la terra santa nella battaglia di iconio si scontrarono contro le forze turche e anche se riuscirono a vincere questa battaglia parlo delle forze turche del sultanato proprio di iconio e anche se riuscirono a vincere la battaglia senza peraltro conquistare i territori anche se riuscirono a vincere la battaglia per farsi passare la pagarono a caro prezzo perché non solo persero molti uomini ma a cadere fu addirittura federico barbarossa il quale morì durante la battaglia cadendo da cavallo e incredibilmente così dice la storia affogando nel piccolo fiumiciattolo tirato giù dal peso dell'armatura nonostante la morte di federico barbarossa l'esercito andrà avanti e nel 1193 arriverà in quella che un tempo era la fenicia romana qui le forze ormai guidate da riccardo cordileone e in parte quelle tedesche dal figlio di federico barbarossa che invece ha lasciato un altro figlio enrico che in questo momento è re di longobardia dopo la morte del padre le forze dei crocianti avanzano e una dopo l'altra riescono a liberare le province romane a questo punto saladino cerca di creare scompiglio dal lato cristiano sa che riccardo sta nominando dei suoi protetti dei suoi guerrieri signori di quelle città che libera senza nessuna intenzione di restituire romani e per questo saladino fa una mossa molto intelligente libera il legato imperiale di gerusalemme che aveva catturato durante la battaglia di attine e lo spedisce proprio dai normanni in modo da spingere questi a richiedere ai normanni la restituzione della città e cercare uno scontro proprio tra i crociati ovviamente riccardo cordileone rifiuta qualunque accordo la fenicia diventa una provincia normanna e con tutto l'esercito riccardo marcia verso sud verso gerusalemme a differenza che nella nostra timeline però le cose sono leggermente diverse in questa timeline riccardo non ha praticamente nessun appoggio dai locali che quando sono musulmani ovviamente parteggiano per saladino quando sono cristiani vedono il riccardo un normanno un invasore esattamente come il saladino per questo le sue truppe quando affrontano quelle di saladino ad arsuf non riescono a sconfiggere la battaglia è praticamente un'immensa carneficina senza nei vincitori che vinti che se da una parte lascia gerusalemme nelle mani del saladino dall'altra spinge riccardo a tornare nei suoi territori in fenicia finalmente nel 1194 la flotta romana guidata ad antonino terzo arriva a cipro in terra santa i rapporti tra antonino riccardo cordileone sono però pessimi sono pessimi perché riccardo si rifiuta di restituirla alla fenicia e in cambio antonino rifiuta qualunque accordo e cobelligeranza con i normanni alla fine in tutto questo si inserisce ancora una volta il saladino che nel 1195 grazie anche alla mediazione di isacco angelo firma un accordo con i romani il saladino restituisce ai romani tutta la costa in particolare il porto di ascalona smantella le difese di gerusalemme le smantella le mura e seppur mantenendone il controllo assicura un pieno e libero accesso ai romani alla città santa stipulato l'accordo che evita una possibile lunga guerra antonino torna a roma lasciando la fenicia normanna al suo destino non interessandosi a una guerra che poteva diventare molto lunga non dimentichiamo non dimentichiamoci che riccardo anche signore di normandia per una provincia così lontana quando tornerà a roma troverà un papa che assolutamente arrabbiatissimo per questo accordo lui sperava che gerusalemme sarebbe stata riconquistata ma dopo tutto era un buon accordo e il prestigio di antonino gli permetterà di evitare altri problemi la morte poi del papa e la sostituzione con un papa più vicino all'imperatore ristabilirà un pochettino la situazione gli esiti di questa terza crociata però riverberanno riverberanno non lo so in tre punti diversi innanzitutto in in normandia nel 1199 infatti riccardo cordileone che era tornato in patria morirà lasciando il trono al fratello giovanni giovanni non è sicuramente un buon regnante e il suo trono gli viene anche un pochettino contestato da parte di un altro fratello goffredo che a differenza di giovanni riccardo è cresciuto alla corte del nonno ex nonno nei vecchi domini longobardi di tolosa e forse si considera quasi più longobardo rispetto ai normanni questa rivalità potrebbe sfociare in uno scontro chissà questo ovviamente me lo direte voi le cose vanno anche a cambiano anche in germania nei territori dei longobardi perché enrico il nuovo re dei longobardi una volta che il fratello torna decide di donare a lui e a quei crociati che l'avevano accompagnato terre e castelli nella pomerania che è stata appena conquistata si crea una specie di piccolo stato crociato monastico quasi un ordine longobardo crociato che si instaura nella nelle terre più orientali della pomerania quest'ordine in cui vanno a confluire moltissimi signori longobardi che non hanno potuto partecipare alla crociata prenderà il nome di ordine teutonico un modo per farlo entrare l'abbiamo trovato il terzo campo di interesse è invece in medio oriente nel 1198 muore saladino gli succede il figlio in una sostanziale stabilità che conferma la situazione peraltro non così stabile data la presenza del regno normanno in fenicia ma soprattutto chi stringe ottime alleanze è isacco angelo il quale dopo aver firmato un nuovo trattato di pace con l'ungheria che conferma le conquiste ungheresi stipula un accordo di alleanza con la georgia facendo sposare proprio figlio con una delle figlie del re di georgia questa alleanza potrebbe voler dire la fine del sultanato di conio d'altronde difficilmente il figlio del saradino li difenderà ma questo lo vedremo solo nelle prossime puntate ultimo piccolo appunto in questo stesso periodo il regno degli alani che si trova sostanzialmente nell'attuale azerbaijan che potremmo iniziare a chiamare aleniai jan sono malissimo il regno degli alani si converte all'islam non sono più prima i regnanti poi man mano tutto il popolo si convertono in realtà alla religione dei popoli che governano quindi questo è tutto insomma tante aree di crisi qualcosa in normandia i teutonici potrebbero riaccendere la crisi tra la polonia e la longobardia ovviamente l'oriente questo l'abbiamo detto ovviamente l'impero dove il problema dei catari dei movimenti eretici degli spiritualisti non è ancora terminato e poi non abbiamo parlato ovviamente della russia perché come detto sta evolvendo in maniera molto molto stabile con i piccoli russe che si stanno dividendo non abbiamo più di tanto parlato della scandinavia probabilmente alcuni considerano questa battaglia di stanford bridge in questo mondo la vera fine dell'epoca vichinga perché da questo momento in poi la scandinavia si richiuderà un pochettino verso se stesso se vorrete oppure potrebbe cercare una nuova espansione e poi ovviamente un giorno da est arriverà qualcuno ma di questo ne parleremo nelle prossime puntate ora venerdì prossimo non ci sarà lucronia mi spiace ma la settimana di ferragosto lavoro tantissimo e quindi non riesco a girare e non neanche chiesto giulio leo se va in vacanza e qui non riesce a farmi le mappe e mi spiaceva fare lucronia un pochettino così ci rivediamo con lucronia tra due settimane tra due venerdì entrando l'avevo detto all'inizio che qualche settimana sarebbe saltata incredibilmente ne salterà solamente una mi ritengo abbastanza soddisfatto io vi saluto e vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di meraviglie e storie fantastiche storie incredibili che possono essere da base a ucronie lunghe e complesse come lo è diventata questa grazie a quello che dico io e grazie soprattutto a quello che mi scrivete voi se volete curiosare tra queste storie qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso la prossima settimana uscirà una pillola non so se è martedì o mercoledì vedremo e poi il resto starà a vacanza ci sarà probabilmente una pillola di cinema a fine settimana alla prossima ci vediamo tra due settimane con lucronia ciao ciao